Siamo in collegamento con l'avvocato Amedeo Di Segni, avvocato di Samuele Landi, ovviamente tutela anche la sua famiglia. Intanto ecco, se ci sono novità davvero dell'ultima ora, oggi è il 12 febbraio, sono dieci giorni che l'imprenditore Aretino non dà notizie di sé, è corretto? È corretto, l'ultimissima informazione che non voglio chiamare notizia perché non ho conferma documentale, è che la polizia in attesa dei lunghi esiti del DNA che si sta comunque nel frattempo effettuando, ha fatto un rilievo dattiloscopico, cioè sulle impronte digitali e questo purtroppo ha dato esito positivo con un cadavere che è stato rinvenuto. Quindi la notizia non è, ripeto, confermata documentalmente ma è soltanto riferita a voce da uno dei familiari, però è l'ultima informazione di cui dispongo. Sono ore di apprezzione per i familiari di Samuele Landi, l'imprenditore Aretino, che risulta disperso dallo scorso 2 febbraio nelle acque dell'oceano indiano, quando un natante di sua proprietà con 5 persone a bordo è naufragato. L'imprenditore e il resto dell'equipaggio stavano lavorando al futuristico progetto di Iceland, una città flottante che avrebbe avuto un'organizzazione autonoma, decentralizzata, senza tasse e imposte. Un sogno per l'imprenditore. Sta costruendo in forma modulare, aggiungendo sempre più moduli sia abitativi che tecnici, questa sorta di città galleggiante per creare una sorta di mini stato al di là delle acque territoriali, privo di tasse e pieno di tecnologia. Questo era il suo progetto. Ecco, quanto è avanti questo progetto? Il progetto è molto avanzato, nel senso che richiede tempi lunghissimi perché è un progetto faraonico, però tutte le strutture tecnologiche sono state già approntate. Quello che manca sono i moduli abitativi. Adesso erano stati posti i moduli abitativi base, diciamo, quelle per gli addetti ai lavori che dovono preparare il resto e non ancora quello per coloro che sarebbero stati poi cittadini di questa città. Gli marinai sono stati salvati dopo 48 ore, poi il mare ha restituito un corpo e un altro risulta disperso. Sul corpo dove sarebbero state riscontrate le impronte digitali di Landi, si attende l'esame del DNA. L'avvocato di Segni stava lavorando al ricorso in Cassazione per la condanna in appello dello scorso ottobre a carico di Landi per il caso Agile Eutelia. L'imprenditore voleva impugnare la sentenza e arrivare in Cassazione. Operando in qualità di avvocato, oltre che di già amico di Samuele Landi, mi attendo sicuramente degli esiti ufficiali e presentabili perché dovrò anche informare le varie procure della Repubblica, i vari organi giudiziali che hanno ancora in carico procedimenti a suo carico, perché per esempio quelli che sono i reati ancora pendenti, quelli sui quali abbiamo sempre sperato ancora in una soluzione, si dovranno estinguere eventualmente per morte del reo. Per fare questo ho bisogno non di indiscrezioni, ma di notizie verificate. Ovviamente di carte, insomma. Come si dice in questo caso, procedimenti per i quali voi avete sempre detto, anche non più tardi di qualche anno fa, insomma, quando ricordiamo quella conferenza stampa in Piazza Guido Monaco, di comunque fare appello. Ecco, Samuele Landi si è sempre professato innocente. Non solo, ma anche contrattaccato, denunciando i magistrati, i commissari di Otelia e altri organi, persone e personaggi, che gli ha sempre ritenuto colpevolmente responsabili di fatti che invece lui non aveva commesso. E l'avvocato di segni ribadisce, Samuele Landi non è mai scappato, così diceva ai nostri microfoni in una conferenza stampa in Piazza Guido Monaco, collegato a distanza. Ci sente latitante lei? Ci sente latitante? Altra domanda, interessante. No, no, non mi sento latitante assolutamente, mi sento semmai un esiliato. Lui non ha abbandonato la città perché le cose andavano male per Otelia. Lui era già all'estero per motivi di lavoro, prima in Svizzera e poi a Dubai, e aveva ratificato e ufficializzato questa sua residenza estera iscrivendosi all'Aere già prima del 2009, quindi molto prima che le indagini approdassero a una conoscenza di qualcuno. Quindi lui non è fuggito, è rimasto all'estero per evitare il mandato di cattura, ma anche per dedicarsi a questo suo lavoro che aveva già cominciato all'epoca.